Grazie a tutti. Alcuni argomenti che sono anche abbastanza importanti e delicate e quindi c'è bisogno di un approfondimento ulteriore. Se possiamo rinviarla, se il consigliere è disponibile. Grazie. Va bene, mi rendo disponibile al rinvio nella speranza che questo sia utile a trovare una soluzione per il bene marchigiani.